Schio. Prestavano denaro a tasse di interesse elevatissime a connazionali. La Guardia di Finanza di Schio ha arrestato nell'ambito dell'operazione denominata Pecunia un cittadino bengalese, una filippina che come copertura lavorava come badante presso un ignaro anziano. A seguito delle perquisizioni finanzieri hanno trovato occultati negli abiti dell'uomo complessivamente 11.000 euro in tagli da 50 arrotolati in mazzette piuttosto che in buste da lettere. Trovati preziosi e brillanti per un peso complessivo di 250 grammi e soprattutto i libri mastri dei prestiti concessi e degli interessi da riscuotere. Dall'incrocio dei dati finanzieri hanno individuato allo Stato decine di cittadini stranieri molti dei quali già essentiti residenti nelle province di Vicenza e Padova che si rivolgevano ai presunti due usurai. Il modus operandi era ormai consolidato e prevedeva che a fronte della concessione del prestito il debitore si obbligasse a pagare mensilmente una quota di interessi da corrispondere senza soluzione di continuità fino a quando, e questa era la condizione pressoché impossibile da raggiungere, la vittima fosse stata in grado di restituire in un'unica tranche l'intera somma ottenuta. La donna poi era arrivata a trattenere impegno i documenti di identità e ricattare le vittime di svelare il debito contratto. La filippina pizzicata in flagranza mentre un'altra cittadina asiatica le consegnava una somma di 1.300 euro davanti ai finanzieri ha tentato la scusa di fungere da mero tramito per la consegna delle somme ma non è stata creduta e sono scattate le manette.